Una gran bella parta! E allora buongiorno, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, devastate di mi piace questo video, guardatevi i video fatti, il garbinismo, il commento alle altre partite, la cattofilosofia e dicevo iscrivetevi, attivate i campanacci perché domani pomeriggio vi aspetto in live per parlare di tutta la serie A, calciomercato, sentenze, sfoghi, ignoranze, coglioncini tattici, quindi mi raccomando siate presenti in tanti, seguitemi sui social e scaricate l'app di numero 10 che vi lascio in descrizione, app con la quale collaboro, quindi andate tutti a scaricarla che ve la consiglio. Allora, Juventus-Atalanta, pareggio pirotecnico, che è pirotecnico, devo dire che è stata una partita bella anche perché ci sono stati diversi errori. La cosa che non ho veramente capito è stato quel doppio cambio che ha fatto Allegri con Milic e Di Maria in panchina per mettere Miretti e Ken, che è stato un cambio secondo me che ha abbastanza, ha sprepuzziato la Juventus, mi è stata sprepuzziata la Juventus, concedetemi questo paragone, perché, allora, Di Maria lo capisco perché ha un'autonomia di 35-40 minuti, nel secondo tempo era sparito, ma Milic non mi sembrava onestamente da togliere, anche perché fungeva da riferimento, ha fatto un gol da centravanti, vero? Secondo me quel cambio lì è un po' azzoppato, quella che poteva essere, sai, una situazione magari sporca, con squadra che ha un riferimento, qualche sbucciata così, poteva, non avrei fatto quel cambio onestamente, o non l'avrei fatto così presto, non l'avrei fatto in quei modi per mettere poi un Miretti, che è onestamente, ma che cosa vi dicevo io quest'estate? Vi dicevo, guardate che Fagioli è più forte di Miretti, è più pronto quantomeno, si vede che ha un'altra leverage, un'altra qualità, oggi tutti parleranno di Di Maria per il rigore e il taco, ma in realtà sono state molto più preponderanti, a mio avviso, le giocate di Fagioli, che si piglia il rigore, fa una pennellata perfetta per Milic, che poi arriva, fa un grande gol, con la difesa dell'Atalanta abbastanza ferma, però Fagioli signori parliamone, Fagioli, hashtag Fagioli signori parliamone, e qui lo si fa da tempo, qui lo si fa da tempo, però nonostante questo devo dire onore e merito ad una grandissima Atalanta, perché stasera ho visto una Atalanta veramente gagliarda, una Atalanta attenta, con dei giocatori come Lukman, che ha fatto una partita spaziale, ma anche il centrocampo, tutto sommato, Toloi, che al netto di una fase difensiva, magari di squadra, non sempre precisissima, a volte un po' sui colpi, è un po' sorprendibile, però ho visto un'Atalanta che a livello di attenzione, di intensità, di personalità, anche nel tenere un campo così, dopo quello che era successo in settimana, ha fatto una signora partita. Anche Gasperini oggi qui cambia, ha voluto dare la sua pontatina, perché Bogat ha tolto così, ha gasato, ha gasato oggettivamente, perché se è vero che l'ha tolto per l'apertura sbagliata, Gasperinismo, Gasperinismo dei più totali, però onestamente se mi devo astrarre, se mi debbo astrarre dal nostrismo, Bogat l'avrei tenuto in campo, perché comunque nelle ripartenze, nelle palle lunghe, era un giocatore abbastanza periglioso. Poi vi devo dire una cosa che, allora, A sicuramente voi mi lancerete delle feci addosso, B però è anche comprensibile, vista l'età del giocatore di cui stiamo parlando, C è vero che ha fatto anche un assist, mi pare quello per me, l'ottima combinazione è quell'azione, però il Lund stasera, cioè non è che non mi sia piaciuto, mi è anche piaciuto, però diciamo che gli ho visto pagare un po' lo scotto della giovanissima età, perché comunque ha avuto a che fare, ha avuto a che sgomitare con gente come Bremer, Danilo, cioè oggi lo si è visto un po' assorbito, mettiamola così, però nonostante questo l'impegno non è mancato, ha fatto sempre una sua signora partita, gli ho visto fare un po' tutta l'Atalanta che ho visto veramente bene, ma anche se l'Atalanta avesse perso questa sera, che ci poteva stare, perché di fronte aveva una squadra forte, però intanto si è andato a Torino a fare tre gol a una squadra che prima di Napoli aveva presi quanti? Sette? In tutto il girone d'andata, quindi questa era già una grande dimostrazione, ma ho visto comunque un'Atalanta veloce, un'Atalanta verticale, un'Atalanta attenta, un'Atalanta competitiva, insomma ho visto un'Atalanta da Europa, forse è un po' lo sbaglio che hanno fatto tutte e due le squadre, ma paradossalmente più l'Atalanta, specialmente dopo il vantaggio, è che si è abbassata un po' troppo, si è abbassata un po' troppo l'Atalanta e ha permesso alla Juve di prendere campo e di andare poi a fare quella rimonta iniziale che ha portato al 2-1 di Milik. Lì poi ha capito un po' forse la lezione, ha cercato di fare una partita più continua, Coppe Miners probabilmente ha anche aggravato certe difficoltà di filtro a centro campo, però anche la Juve, tutto sommato, vi devo dire, non ho visto una bruttissima Juve, non ho visto una squadra che come altre volte si è rintanata in difesa, quantomeno ho visto uno straccio di reazione, uno straccio di volontà di potenza, probabilmente, ripeto, anche per le vicende extracampo che stiamo vivendo, per la necessità di dare un segnale, per una volontà di riscatto e tutto, si è visto qualcosa, ho visto Juventus peggiori, mettiamo oggi anche perché l'avversario non è scarso, cioè giochi contro un'Atalanta che sa giocare, che sa fare bene le cose. Un po' i mister per me, nonostante abbia un grandissimo merito Gasperini, per come ha portato l'Atalanta a giocarsi sta partita, per quello che poi è tutto il concerto di concentrazione, gioco, intensità, quelli sono anche meriti gestionali, però diciamo che un Boga ancora un po' in campo non mi sarebbe dispiaciuto, ma ancora peggio per me, Allegri, con quel cambio che ha sprepuzziato veramente la Juventus, un po' qualche, cioè, Miretti ha sbagliato un gol alla Jovic, veramente, cioè, è andato di piatto, molle, anche i tifosi li ho visti un po' rumoreggiare, piuttosto di quadrado, vi dico la verità, anche se eravamo veramente a fine partita avrei messo healing, Chiesa l'ho visto entrare un po' ruffone, un po' nervoso, Di Maria ha fatto due cose buone per carità, però nessuno lo dirà, ma ha anche sbagliato tanto, ha sbagliato diversi appoggi, controlli di palla, poi è sparito alla distanza, Milik mi è piaciuto perché ha fatto un gol veramente stupendo e non l'avrei mai tolto, Kostic non mi è piaciuto, McKennie non aveva fatto male il primo tempo, poi è sparito, Rabiot gli ho visto fare gare migliori, e così come Danilo luci e ombre, luci il gol, ombre un po' la fase difensiva sui gol subiti, Alexandro abbastanza negativo, Fagioli, ripeto, mi è piaciuto molto, Fagioli in questa Juve qua deve giocare assolutamente titolare, ma neanche da mezzala, io proprio, viste che le alternative sono Paredes, che boh, e Locatelli che anche oggi, a parte nella ripresa che è un po' salito di tono, si è un po' avvicinato all'area, però il primo gol dell'Atalanta, se non erro, sì, il primo gol dell'Atalanta nasce da un altro lancio sbagliato suo, poi mi pare che vada a guadagnarsi, sì, la punizione con quale Danilo segna, però Locatelli siamo sempre abbastanza al medesimo livello, dell'Atalanta mi è piaciuto, ripeto, soprattutto Lukman, Oilund dipende da che prospettiva la si guarda, cioè se tu vedi che hai a che fare con un giocatore di 19 anni, che gioca a Torino, puoi solo che essere soddisfatto, io ho concentrato più sui margini di miglioramento, che stasera si sono visti, mi è piaciuto Mele, comunque ha fatto una buona partita, anche De Miral, nonostante qualche passaggio a vuoto non mi è dispiaciuto, Scalvini, ecco, Scalvini, nonostante l'età sia simile, gli ho visto fare una partita nella quale ha mostrato forse meno margini, cioè ha messo in campo una prontezza nel suo ruolo più forte di quella che stasera ho visto avere Oilund, ok? Muriel un po' così e così, ma è entrato anche lui tardi, comunque ripeto, non ho visto una brutta partita, non ho neanche visto una bruttissima Juventus, o meglio, ho visto Juventus peggiori, ma ha un punto meritato per l'Atalanta che ho visto, che è stata un'Atalanta di personalità, un'Atalanta concentrata, un'Atalanta anche cattiva, l'arbitraggio non mi è piaciuto per niente, perché ha alternato fischi mancati, anche quelli che è andato in mezzo ai Maroni, ai giocatori dell'Atalanta, che era una posizione pericolosa sul vertice destro dell'area di rigore, ci si è messo in mezzo, quella era un'azione che non andava fermata, quindi non mi è piaciuto molto l'arbitraggio, ma mi è piaciuta la partita, quindi entrambe le squadre hanno fatto una gara, la Juve non negativa, mettiamola così, non così negativa, l'Atalanta è una bella partita, bella partita e per certi versi il punto sta anche stretto. Ditemi cosa ne pensate, guardate i video fatti, devastate di mi piace, un caro saluto e a domani pomeriggio. Grazie.